6 colpi calibro 7.65, 5 andati a segno, esplosi in pieno giorno tra la gente nel cuore del quartiere Libertà di Bari, laguato alle ore 17 in via Principe a Medeo, angolo con via Ettore Fieramosca, a due passi dal tribunale. Vittima a un pregiudicato con precedenti perfurti di auto, Cosimo Soloperto, Quarantani, del rione San Paolo, era uscito da poche ore dal carcere. I sicari lo aspettavano al varco, forse per regolare qualche conto in sospeso. Stando alle indagini condotte dalla squadra mobile con qualche difficoltà, nonostante i tanti testimoni, Soloperto era in selle alla sua moto, una Vespa di colore nero e stava percorrendo via Principe a Medeo. All'incrocio con via Fieramosca qualcuno a piedi gli ha esploso contro, 6 colpi, tanti bossoli trovati dalla polizia, uno solo andato a vuoto, conficcatosi nella Vespa, poi la fuga su una moto guidata da un complice. Da una prima ricostruzione la vittima sarebbe stata soccorsa da un amico che indossava ancora una tuta da lavoro, ha lasciato tutto, si è messo alla guida della Vespa di Soloperto ed è corso al policlinico accompagnando l'uomo al pronto soccorso per poi lasciare la due ruote parcheggiata in ospedale e far perdere le proprie tracce. Il pregiudicato è stato raggiunto dai proiettini ad una gamba e a linguine, non corre comunque pericolo di vita. Sul posto anche la polizia scientifica per i rilievi e i vigili urbani che hanno transennato la zona, riaperta al traffico dopo circa tre ore.